Una lettera anonima dai toni ingiuriosi è stata ricapitata lo scorso martedì alla consigliera comunale di DRO, Cinzia Lucin, candidato sindaco alle amministrative di maggio per il Movimento 5 Stelle. La vicenda è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa alla presenza di tutti i consiglieri grillini dei comuni di DRO, Arco e Riva Delgarda. Del caso sono state informate le autorità competenti, la presidente del Consiglio, Genetta Santoni, e il sindaco senatore Vittorio Fravezzi. Sulla missiva è stato citato e minacciato anche il capogruppo Alvaro Tavernini. Difficile per i consiglieri DROATI del Movimento 5 Stelle collegare la lettera anonima a qualche episodio particolare. La lettera è stata bollata a Verona. Oggi siamo a fare una conferenza stampa in quanto è successo un fatto molto increscioso questa settimana, martedì nello specifico. Ho ricevuto una lettera, prendo la cassetta delle lettere, quindi una missiva spedita regolarmente tramite il servizio postale e aprendola ho trovato delle offese alla mia persona e nonché delle minacce. Non sono stata solo io l'oggetto di questo documento, ma anche il mio collega, consigliere Alvaro Tavernini, che è qui a fianco a me. Devo solo testimoniare, torno un po' indietro, torno al 2013, quando il Movimento 5 Stelle si presentava alle politiche nazionali, ci eravamo un po' dati da fare e immediatamente sono stato colpito direttamente, ma le lettere minatorie che ricevevo coinvolgevano il Movimento 5 Stelle, fatti incresciosi, proprio minacce sulla famiglia, cose che colpivano la sensibilità di noi tutti. Noi però il nostro sentimento, il nostro volere è ben fermo, noi non ci stiamo perché questa classe che ci ha governato fino adesso, il modo di fare che c'è stato, non ci piace. Vogliamo più trasparenza, vogliamo più onestà, vogliamo che il cittadino diventi il soggetto principe di ogni decisione. Ti te parli massa, te se falida in tutte, e l'è meglio che te rompi le bale de men, ti è quel maiale del tota, tanto ve le fado pagare tutte. Sotto a questo testo hanno riportato la fotocoppia di una fotografia apparsa a dicembre sui giornali a seguito di un consiglio comunale di Arco del 15 dicembre, per l'esattezza, quando si parlava di sanità c'erano anche l'assessore Zeni e il direttore Flora, dove noi consiglieri del Basso Sarca ci eravamo imbavagliati, quindi nella foto siamo riportati noi col bavaglio appunto sulla bocca, in quel caso era una protesta in quanto avevamo chiesto un consiglio congiunto con diritto di parola e c'era stato negato. Quindi questo comunque è il documento, il testo che vi ho letto e la foto allegata riportata sotto.